Ciao a tutti, oggi nuova recensione trash. Per l'occasione ho deciso di affrontare un genere nuovo per quanto riguarda i libri trash, ovvero la fantascienza. La fantascienza, sapete no? Quei romanzi che flirtano un po' con situazioni sci-fi e distopie, no? E quindi per l'occasione ho scelto un romanzo che entra pienamente nella categoria ed è Una meravigliosa bugia di Jamie Maguire. E voi direte, ma come? Ma dalla copertina sembra un banalissimo new adult, un libro romantico. No, no, vi assicuro che è la cosa più assurda che abbia mai letto. Fantascientifica, seriamente. Perché ancora Jamie Maguire? Perché dopo aver letto L'amore è un disastro, ho voluto sicuramente approfondirla come autrice trash, perché mi ha sconvolto molto peggio di Christina Kiperi. E avendo lei fatto, al di là di L'amore un disastro, che è uno spin-off di uno splendido disastro, sì, sempre dei titoli molto fantasiosi e originali, Lei ha realizzato due saghe, diciamo. La prima è quella di uno splendido disastro e la seconda è questa, che nell'originale si intitola Happenstance Trilogy. E qua io mi chiedo, perché questa esigenza di fare le saghe? Cioè, se tu hai un'idea per un libro completo, un libro autoconclusivo, fai un libro autoconclusivo. Che cazzo devi fare le saghe? Cioè, perché questa saga, saga, trilogia, è formata da librettini di cento pagine, ma molto fasulle, molto. Perché sono scritti col solito carattere 22, che se seguisse gli standard di carattere di un libro normalissimo, arriverebbe scarsamente alle 60 pagine per volume, ma molto scarsamente. E quindi io mi chiedo, ovviamente lo so la risposta, la risposta è il lucro e l'esigenza di contratto, ovvero si vede lontano un miglio che la Jamie Maguire, questa storia, non è che ci credesse molto. Magari aveva l'idea per fare un romanzo solo, però che senso ha veramente fare una trilogia di romanzi lunghi cento pagine scarse, con carattere grande così, grandissime prese per il culo. Ma passiamo al sodo, perché è un romanzo fantascientifico? Perché non ha senso, ovviamente. Allora, io, come al solito, ho preso gli appunti al lato del libro, e quindi pian piano lo scopriamo assieme. Già la prima frase di apertura, diciamo, che ci lascia in ebetiti, perché è un incipit che veramente, al confronto il, 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 leggi, secondo me l'incipit più geniale è quello di Chuck Palahni, che soffocare, smettila di leggere questo libro, no, lo ripete, ecco, questo lo batte in tronco, perché è un incipit altrettanto bello, che è, va a casa, spegni le luci e ammazzati. Minchia. Grazie, Jamie Maguire, grazie, ma è già, mi hai già spinto verso l'abisso che è il tuo libro, che poi io non capisco, dopo una lettura di quest'altro tuo libro, se ci sei o ci fai, però fa niente. Comunque, diciamo che viene presentato il personaggio principale, che è Erin, e in verità non è l'unica Erin del romanzo, sono ben tre Erin, per confonderci le idee, solo che due, le altre due Erin sono due bitch, due bitches, e quindi non sono intercambiabili, chi se ne frega, invece la protagonista, ovviamente, è la Erin, quella acqua e sapone, quella super a casa e chiesa, ma nel senso che è proprio una piccola fiammiferaia che viene bolleggiata dalle altre due Erin, che fanno le bitches, ovviamente, e lei lavora in un bar, in una gelateria, e viene costantemente bolleggiata, il motivo è che è figlia di una madre degenere, questa madre degenere si intitola, si chiama Gina, Gina è una drogata, che molto spesso ha problemi con la polizia, se ne sbatte tranquillamente della nostra protagonista, e visto che viene figlia di una drogata, di una criminale, la bolleggiano, ovviamente però Erin è un animo sensibile, nobile, e quindi le bitches le dicono chiaro e tondo, se a 18 anni non sei capace di svolgere un lavoro a salario minimo al Dairy Queen, come sempre grande capacità di gestione dei dialoghi per nulla esplicite telefonati di James McGuire, come pensi di cavartela nella vita adulta? Dovresti farla finita ora, Erin, e morire con dignità. Madonna santa. E quindi ci sono tre Erin, e io stavo già impazzendo. Il problema è che non hanno solo lo stesso nome, cioè la fantascienza già domina pagina 2, cioè la pagina 1, perché i caratteri sono caratteri 20, perché sono nate tutte e tre il 4 maggio, e tutte e tre sono nella stessa classe, sì vabbè, gli alieni a che pagina arrivano, a che libro della saga arrivano, vabbè. Tra l'altro Alder e Sonny, che sono i soprannomi delle altre due Erin, hanno dei genitori che vengono definiti i futuri capi massoni. E quindi ho detto, interessante, si entra anche nel circolo distopico realmente, quindi non è una battuta la mia, ero serio. E lei è diventata il loro... Ah, prima erano amiche, però dopo all'elementare hanno deciso di bolleggiarla, come spesso succede. Ovviamente viene introdotto il personaggio maschile, il nostro bad boy, di cui lei si innamorerà, la nostra Erin si innamorerà preadutamente, che si chiama Weston Gates. E il problema è che questa storia d'amore non ha assolutamente senso. Perché non ha assolutamente senso? Perché mentre... Io prendo My Dilemma Is You come esempio di libro trash romantico. Mentre My Dilemma Is You ha un senso, perché comunque la classica cagata, le due che si odiano, che però a furia di stare insieme scoprono di essere fatti l'uno per l'altra, ha un senso. Un altro senso può essere se due non si cagano di striscio, e un incidente scatenante li avvicina, da quel momento scatta la storia d'amore, mettiamo, se due persone non si cagano. In questo caso non ha senso, perché Weston Gates, che tra l'altro è il più figo e ammirato della scuola, ovviamente come al solito, non ha motivo di essere innamorato di Erin, ma lui lo è. Lo è. Perché l'ha deciso. Lei è innamorata di lui, però lui è innamorato di lei già da pagina 13, ma in verità non sappiamo perché, non c'è stato alcun motivo per inscenare questa cosa. Io dico che è fantascienza, perché se lei è la sfigata della scuola e lui è il belloccio, e non si sono mai parlati prima che lui facesse il grande passo, perché lui dovrebbe essere interessato a lei seriamente, seriamente, o è una banalissima infatuazione fisica, nel senso che la nostra fantastica Erin, anche se non lo sa, è una modella di Victoria's Secret, altrimenti non ha assolutamente senso. E come Cleo Tom, come il romanzo di Cleo Tom, non c'è un motivo affinché la storia d'amore parta, manca l'incidente scatenante, e non venitemi a dire che è sperimentazione della scrittura per eliminare la traccia base di un romanzo studiato ai corsi di scrittura creativa, perché questa è solo incapacità di scrittura e basta, però fa niente. Lei è cresciuta con questa madre, una piccola Oliver Twist, perché è orfana di padre, poi ha una madre che non è sua madre, ma poi lo vedremo nel dettaglio, questo problema. E nel frattempo viene bulleggiata, viene bulleggiata con grande intelligenza anche, perché dicono che lei, che è la nostra Erin, si diverte a sputare nei bicchieri dei compagni di classe per attaccare l'AIDS. Bello. Più tardi si dirà che la sua vagina emette flatulenze. Cose molto figlie alla Jamie McGuire. Jamie McGuire deve essere sempre volgare e stupida nelle trovate, anche quando non lo richiede, perché questo romanzo poteva non richiederle, però fa niente. Per fortuna che la nostra protagonista sa che l'AIDS non si trasmette con la saliva. E la cosa che mi lascia dubbi sulla promiscuità delle compagne di classe della nostra amata Erin è il fatto che viene detto che una percentuale significativa di ragazze della nostra classe è rimasta incinta ben prima di diplomarsi. Quindi direi che... Cioè, un conto una che può starci, un conto due che può essere una percentuale credibile, ma una grossa percentuale della tua classe è rimasta incinta? Ma dove abiti? Abiti negli States o abiti... non lo so, vabbè, fa niente. E poi c'è Brady, Brady che è un altro bullo, che ha i genitori straricchi e devono stare tutti zitti perché lui può fare quel cazzo che vuole. La solita monarchia adolescenziale, in sostanza. E Weston è seduto alle sue spalle e inizia a corteggiarla senza un motivo valido. Quindi, boh, io ho messo proprio la freccina Carrie Alert, no? Nel senso, mi sembrava Carrie, cioè la classica perculata. Quindi non so come andrà avanti nel libro 2, che ovviamente leggerò per capire qualcosa di più. Però io ho detto, cioè, il ragazzo più figo che sta con la sfigata, la corteggia senza motivo, io mi aspettavo una svolta alla Carrie, francamente, no? Che fosse una perculata. E poi arriva il momento più trash del libro, pagina 28. Perché cosa succede? Praticamente lei è lì alla gelateria con la sua collega, stanno preparando dei frullati. E succede questa cosa trash. Scoppiai a ridere e scossi la testa, lasciando che le pale del mixer facessero il loro dovere con l'MMN Blizzard che stavo preparando. Quando Frankie mi aveva insegnato il mestiere, mi aveva spiegato che era un po' come fare una sega a un uomo. Perché? Perché? Ma la cosa peggiore è quello che aggiunge dopo. Il paragone non mi era perfettamente chiaro, per forza perché lei è una santarellina, ma un giorno avrei reso molto felice qualcuno. Stai dicendo che quando scopri le seghe diventerai una zoccola. Che senso ha? Cioè che adesso sei nella tua fase piccola fiammifferaia e quando finalmente scopri che esistono gli strumenti del piacere, diventi sfoghi la tua rabbia repressa attraverso la masturbazione compulsiva. Che cosa significa? Non è chiara questa frase, mi ha sconvolto. E poi lei esce con Weston, inizia a frequentarsi con Weston e vanno in questo posto a fissare i temporali in lontananza. C'è uno scambio di battute che non ha senso, secondo me, che è molto trash. Io ho scritto Every tear is a waterfall, perché sono le classiche frasi fatte da aggiungere come è stato su Facebook, come che sono brutte. Adoro il modo in cui i temporali risucchiano l'anima, dissi. E lui, che è uno scimmione, io adoro semplicemente i temporali. Lei vuole fare la Jane Austen dei poracci. Lui è proprio il classico maschio di serie Z. E poi c'è un momento ma perché, nel senso. Durante una lezione, cioè ho capito il ma perché, però non ha senso come è gestita questa scena. C'è una lezione, la nostra Erin viene nuovamente perculata. Il professore entra e dice, e quindi ha già portato l'ordine, perché il professore entra e dice chi osa fare ste cattiverie verrà sbattuto fuori dall'aula. Quindi è il professore che ha sistemato la situa. Ma siccome Weston vuole farsi vedere figo davanti alla nostra poraccia, dice sì, sono tutti coglioni. E il professore gli dice, modera il linguaggio. Però Weston fa il gangsta e dice una roba del tipo, non è colpa mia se sono coglioni. E allora inizia una catfight tra scimmioni perché si alza Brady, che è quello sfigato con i genitori ricchi, monarca del liceo, high school, che dice, fo ti ti hai rotto in culo, succhiami il cazzo. E iniziano a battibeccarsi così, ho detto, madonna santa, che imbarazzo. È un po' il duello in chiave millennials questo, meraviglioso. E poi si forma il triangolo scemo. Perché si forma il triangolo scemo? In realtà è già formato perché Weston vuole la vagina magnetica di Erin. Siamo tornati alla Cristina. Però è insieme a un'altra, che è una delle due Erin, bitch, le bitches. E quindi c'è un triangolo scemo. Lui corteggia la nostra poraccia, però lei non gliela dà perché lui sta con l'altra, no? E poi lui sta per limonarla una certa. Lei dice, cerca di restare impassibile, concentrandomi sulle parole che stavo pronunciando. Per pronunciare. Weston, sei un ragazzo simpatico. No, mentirei se dicessi che non mi piace, ma presto leverò le tende da questo posto. No, il tuo problema è che lui sta con un'altra. Cioè, non cercare le scuse, digli la verità. Sono i primi momenti di una crisi coniugale questi. Basta. E poi, per descrivere quanto è rapata, afferma che i muscoli di Weston sono allo stesso tempo morbidi ma solidi. Non si può... Come fanno ad essere morbidi ma solidi? Tutto quello che resta è una grande incognita. È un buco nero che si forma nel mio cervello. A leggere se cagate da Harmony. E poi era sudato, ma non emetteva cattivo odore. Però afferma che se lui puzzasse, a lei farebbe piacere. Quindi è contenta. È contenta che... Ci si fanno un sacco di riferimenti alle flatulenze. Io non so come fanno le persone a emozionarsi a leggere questi romanzi. Quando vengono nominate continuamente scoregge, scoregge vaginali e flatulenze di sudore. Perché vengono costantemente citate, però fa niente. E poi loro stanno lì a vedere un film, lui e lei. E poi la storia parte subito. La storia romantica parte subito. Quindi è un romanzo sperimentale. È fantascientifico per quello. Loro stanno lì a vedere un film, poi a metà film lei decide che deve andare a casa. E lui dice, ma come guardati almeno il film fino alla fine, no? E lei, no, perché tu hai un'altra. E lui, bene. E prende il telefono e dice, allora rompo con la tipella. E allora lei mi strappa il telefono dalle mani e dice, ma che cazzo fai? E lui, no. Ma tu mi dici che non vuoi stare con me per via di una ragazza che non mi piace neanche. È una faccenda che si sistema facilmente. Allora perché ci stai assieme? Vabbè. Perché saresti rimasto con una che non ti piace per cinque anni? Ma si sono messi insieme alle medie. Allora, vabbè. Cinque anni. Ma poi è giustamente una domanda intelligente. Weston scrollò le spalle. Per fare qualcosa, immagino, non è brutta. What the fuck? E lei giustamente gli risponde qua. Ha detto, brava, poraccia. Così. In questo momento sembri solo un grandissimo coglione. La capacità di dialogo di Jamie Maguire. Estraordinaria. E lui, dobbiamo proprio parlarne? No, puoi semplicemente riportarmi a casa. Qua sembra Beckett. Samuel Beckett. Veramente. Cioè, il teatro dell'assurdo. E poi loro parlano e salta fuori questo altro dialogo. Voglio un primo bacio vero e non da un ragazzo che tradisce la sua fidanzata. Ti ho detto che l'avrei lasciata e tu non l'hai voluto. Ma scusa, ma tu lasci le fidanzate in base a quella che... Cioè, ma lasciala perché vuoi lasciarla. Cos'è che... Cioè, devi tenere la copertura. Non l'ho capito. E poi c'è sempre questo fottutamente che è memoria di Cristina Kiperi. Fottutamente. Non si dice nel dialogo. Non è che perché gli inglesi dicono fucking. Allora in italiano non puoi renderlo come fottutamente. Non si dice. Quindi, cara traduttrice, trova un altro modo per definire fottutamente. Scrivi figa o no, come i veri poracci, scimmioni, che lo usano come intercalare. Ecco. E poi lui, per dire come si sente con lei, usa una perifrasi che è imbarazzante. Ed è come quando da piccolo indossi un pigiama nuovo dopo il bagno e ti infili a letto con le lezzuole fresche di bucato. È questo che provo con te. È orribile. È orribile. Sei proprio uno sfigato. Però lei, siccome è sfigata, ha una vita di merda, risponde alla cosa più bella che mi abbiano mai detto. È orribile. Poi lui le vuole regalare il suo giubbotto. Non ha senso sta storia. E lei? Ce l'ho un giubbotto, grazie. E lui? Ma non uno che ha il mio odore. Ah! Gli sciogliono i neuroni. E poi lei torna a casa, tutta contenta, perché ha avuto questa serata di pseudo amicizia romantica. E dice che mi addormentai con la sua voce profonda e armoniosa che mi accheggiava nella mente, parlandomi di pigiami e di lenzo. Che meraviglia. Che meraviglia. E poi arriva una delle scene più tragiche in assoluto. Praticamente c'è una delle ultime lezioni di arte, c'è un esame importante. Qua mi sono incazzato perché ho studiato storia dell'arte, quindi già lì, anche per culare, scrivere di arte senza capirne niente. Fatto sta che c'è questo esercizio di arte, dove tutti sono miracolosamente dei bravissimi disegnatori. E tutti sono impegnati un sacco. Lui per fare il figo ha fatto un ritratto di lei, tutta nuda, con una catenina con scritto per caso. Ed è importante questo fatto. Arriva la professoressa di arte che dice «Quest'anno vi chiedo di prendere esempio da Folkner, l'artista che distruggeva le sue opere. Quindi tutti i vostri disegni dovranno essere distrutti». Praticamente c'è questa scena assurda, che non ha senso, se non per aggiungere dramma, in cui una professoressa che dovrebbe essere a conoscenza della storia dell'arte, obbliga tutti gli studenti a distruggere le proprie opere. Allora, al di là del fatto che è bullismo il segnante alunno, però non ha proprio senso ai livelli dell'esame di storia dell'arte. Perché se un artista decide di distruggere le sue opere, lo fa con un'intenzione artistica. Tu non puoi pretendere che l'artista distrugga le sue opere senza dargli un senso. Non c'è neanche... Viene svalutato il valore dell'opera. Cioè, ma che cazzo di insegnante d'arte sei? Vabbè, fatto sta che tutti piangono, perché questa qua... Poi tra l'altro, a quelli che non vogliono farlo, lei arriva e strappa le opere. Quindi questa è solo una sciroccata, non è un'esperta d'arte. E lui ovviamente non vuole distruggere il ritratto che ha fatto per lei e quindi scappa facendo... No! E quindi scappa, c'è questa scena apatetica che si protrae per cinque pagine. E finalmente tornano le fantastiche traduzioni della traduttrice di questo libro che aggiunge più trash. Perché come l'amore è un disastro aveva reso non so quale parola poppante, penso child, normalissimo child. Qua un baby che cadeva a fiotti, qua viene invece tradotto in pupo. E io mi cantavo gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Vabbè. E poi ho scritto appunto, perché? Perché fa incorniciare... Ah, perché qua sta parlando quella collega. Fa incorniciare il tuo ritratto, è decisamente cotto. È tutto molto strano. Dalla prima elementare le cose sono andate sempre allo stesso modo, giorno dopo giorno. La mia situazione peggiora costantemente. E invece adesso è... Non lo so. Appunto, perché? Non c'è il motivo scatenante affinché le cambi la vita. Non è ancora arrivato, perlomeno arriva dopo. Poi lui ovviamente le chiede posso baciarti? Ancora? Non si chiede, si fa... Che trascione che sei. E quindi li molano, li molano, fino a che arriva una frase trash. Restammo vinghiati senza quasi respirare. Nell'ora successiva occupammo ogni centimetro del suo grande letto matrimoniale. E io ho capito che loro praticamente si muovono e vanno in tutti i posti del letto. Però in verità è scritta così, sembra che loro si espandono. E quindi mi sembrava che si digivolvessero, no? Io ho scritto si digivolvono! E niente, stavo impazzendo. Fatto sta che stavano per fare sesso, però lui dice già domani mattina starò male, dobbiamo fermarci. E lei, perché starei male? Mi sento un coglione a spiegartelo. Sembrerà che voglia far leva sul senso di colpa per indurti a... Sai, no? E tutti i personaggi maschili di Jamie Maguire, almeno quelli che ho letto, hanno paura a dire le cose come stanno. Vabbè. E non ho mai avuto intenzione di darti il mio primo bacio e farti perdere la verginità nella stessa notte. E lei, alludia la frustrazione sessuale? E lui, sì. Ma cosa sto leggendo, ragazzi? Aiuto! Fatto sta che dopo questo grande momento soft porno arriva la chiamata in cui viene i nostri amici, i nostri fantastici cosilli, vengono avvisati che le due Erin che stavano andando in vacanza allo spring break sono morte. E lo dico con questa leggerezza la Cristina Kiperi perché è molto peggio della mia amica che viene messa sotto terra e altre cose del genere. Perché da qui in poi si aprono gli UFO nel senso che c'è un'elaborazione del lutto a caso, a casissimo. Praticamente è ok che non te ne frega un cazzo di Erin, la tua ex, quella stronza, caro Weston, che tra l'altro hai lasciato per poterti limonare la tipa perché sennò lei non te la dava. Però una persona che conosce da cinque anni e ti dicono che è morta al telefono te ne frega un cazzo. Vabbè, lei è quasi contenta perché era la sua bulla. E quindi vanno al funerale, anche i genitori di queste qua che dopo vedremo hanno un'elaborazione del lutto a caso, totalmente a caso. Fatto sta che arrivano dei poliziotti a casa della nostra cara cosina e le dicono che devono prendere un referto, un campione del suo sangue affinché si possano fare delle valutazioni sugli esami del DNA perché comunque si è scoperto tramite l'autopsia che è una delle due Erin, non è figlia di sua madre. E siccome sono nate tutte lo stesso giorno ebbene sì, c'è la tresciata in stile natale in India. Sono stati scambiati i bebè e allora si capisce perché la madre e poi l'elaborazione del lutto strana da parte di tutti i presenti cioè praticamente erano proprio due bitches insopportabili perché anche il preside a dare l'annuncio della morte delle due studentesse dice buongiorno a tutti voi come sapete durante le vacanze di primavera abbiamo perso due studentesse molto brillanti Erin Elderman ed Erin Materson osserveremo due minuti di silenzio perché lo possiate pregare per loro e le loro famiglie se lo desiderate o riflettere ma riflettere su cosa? sulla trashata e subito dopo mi è stato chiesto di informarvi che se aveste bisogno di parlare con qualcuno di quanto è successo per tutta la settimana alcuni psicologi saranno a vostra disposizione per aiutarvi a capire ed elaborare ciò che provate ora per favore aprite il libro a pagina 188 viene detto un po' come ma sì stasera organizziamo la pizzata di classe ma l'elaborazione del lutto ragazzi ma dov'è? il fatto sta che dopo la polizia arriva e senza nessun tatto le dicono ok tu non sei dei tuoi genitori alla nostra poraccia le dicono questa cosa e lei va al lavoro si sente mancare la terra sotto i piedi non capisce però allo stesso tempo è molto sollevata e allora lei non vuole più dormire a casa della sua finta madre vuole stare dal suo amato Weston e poi si trasferirà dai veri genitori e incontra finalmente i veri genitori ovvero i genitori della ex bitch che anche loro hanno una relazione una reazione del lutto strana perché comunque è vero che non è la loro figlia biologica ma l'hanno cresciuta come se fosse figlia per 17 anni 18 non so quanti ne hanno ma sono all'ultimo anno di liceo quindi 18 19 17 18 18 quindi ci hanno passato abbastanza anni da poterla ritenere una figlia vera però morta via 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 creava solo scompiglio ci serve un po' di pepe a questa storia quindi praticamente tutto si risolve in una lacrima e poi i genitori già sono pronti ad accogliere a braccia aperte la loro vera figlia e tutti si ritrovano che carini a fare un aperitivo con cracker formaggio fanta si 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 e gli ho scritto ma la morta è un po' come my dilemma is you sempre questa leggerezza il lutto chi se ne frega del lutto se c'è il sesso o chi se ne frega del lutto se puoi scambiare il tuo lavoro noioso di gelataia come con il lavoro eccitante di un escort no facendo frullati che ricordano la masturbazione va bene e quindi si trovano lì a fare l'aperitivo con i cracker formaggio a parlare di quanto faccia cagare il padre il nuovo padre della poraccia a sciare bello bello tutto viene dimenticato e tutto viene passato su come se fosse una meravigliosa bugia perché la meravigliosa bugia del titolo in realtà è il fatto che la vita ieri in poraccia era poraccia per una meravigliosa bugia cioè era tutta una bugia ma quando si svela diventa una verità meravigliosa ma è fantastico ed è troppo fortuna su un colpo solo eh me lo chiedo anch'io poi finalmente oh finalmente la nostra Erin conclude il nostro fantastico romanzo con la perdita della verginità allora lei non gliela voleva dare fino alla fine in sostanza perché voleva farlo in un posto adeguato eccetera finalmente è disposta a dargliela e lui dice ma sei sicura 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 e lei sì 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 e ovviamente lui ha già una scatola di preservativi e poi lui aveva anche rognato perché non voleva farlo perché lei aveva scelto come luogo il suo furgoncino il suo SUV tipo un furgone una macchina enorme lei voleva farlo lì che erano sul furgone e lui no no qui no qui no inizia a fare il preso male ma che cioè desideri desideri il triangolo del piacere da non so quanto tempo e ti lamenti del luogo agisci facci un favore e facci concludere sto romanzo però lui ha già la scatola di preservativi e iniziano a bombare lui continua a dire ma sei sicuro sicura 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 lei per tutta risposta lo afferra per il fondo schiena e poi aggiunge fui contenta che non mi stesse baciando perché riuscivo a concentrarmi solo su quello sgradevole bruciore l'amore fa male il son e il romanzo si conclude con lui che le regala il ciondolo per caso perché è tutto per caso questa storia che il suo personaggio il suo nudo artistico indossava quindi finisce così e io sono rimasto senza fiato è il primo capitolo di questa trilogia che non ha senso ovviamente leggerò gli altri due perché Jamie McGuire non smette mai di stupirmi è scritto vagamente meglio di L'amore a un disastro ci sono un pochino più di descrizioni non tante però il contenuto è sempre fantascientifico e orribilmente fantastico fatemi sapere se l'avete letto fatemi sapere se lo leggereste per ridere e un bacione a tutti ciao ciao ciao